Buongiorno a tutti, qui Ardino Schenato da yearforex.com e questa è una nuova pillola di trading, un qualcosa di breve, ma a mio avviso molto didattico e riguarda un'operazione che ho fatto proprio intorno a fine maggio che ho condiviso con tutti gli utenti abbonati Platinum, con tutti i platinati, e che, devo dire, è risultata un'ottima operazione ma soprattutto mi piace mostrarvela perché da un punto di vista didattico può darvi degli input. Si tratta della, diciamo, nostra metodologia che utilizza il multi-time frame, senza usare troppi time frame, quindi weekly e daily, per fare trading. Il cambio, in questo caso il mercato nel quale abbiamo fatto trading, è stato il cambio Forex USD Canada, quindi la coppia che vede il differenziale di valore tra i dollari americani e i dollari canadesi. Allora, andiamo a vedere un attimo che cosa ci dice il grafico. Eccolo qua, questo è il grafico settimanale ed eravamo proprio in questa settimana, la settimana del 3 maggio. Allora, vi faccio vedere cosa era successo. Io, analizzando ogni fine settimana la dinamica weekly, quindi facendomi un piano di quella che è la mia, no, l'impostazione, diciamo, che si viene a creare sul mercato e tra l'altro questo piano è un file PDF che mando a tutti quanti gli iscritti appunto al Platinum ogni fine settimana o il sabato o la domenica, mi faccio questo piano e praticamente vado a capire con chiarezza, scrivendomelo, cosa posso fare sul mercato e cosa non posso fare. E in questo caso, dopo la PIN bar, vedete che si era venuta a creare sul settimanale del Dollar Canada nella settimana del 9 di maggio, che aveva creato una struttura a trading range, se guardate, quindi si era creato questo, questo, qui, qui, qui. Cosa succede? Succede che c'è quella struttura ping pong che nella parte bassa, qualora ci sono dei trigger, diciamo, rialzisti, si compra o comunque si va alla ricerca di punti, spunti di entrata e nella parte alta, anche in quel caso, spunti di entrata short, quindi parte bassa, spunti di entrata long, parte alta, spunti di entrata short. Molto bene. Quindi in questo caso, cosa avevo? Io ero dopo questa, nelle settimane e nelle giornate successive, lo spunto potrebbe essere quello di andare o di andare direttamente sul weekly, non nego che andare a tradare direttamente sul weekly sia assolutamente vincente, ma ogni tanto si va a cercare delle conferme per valutare appunto sia magari un'entrata a volte migliorativa, a volte con un rischio minore magari, e sia anche una conferma in più, quindi si ha questa doppia opportunità. Quindi io cosa è successo? La settimana, dalla settimana del 16 maggio e poi quella successiva in realtà, ho cercato degli spunti short, che andiamo a vedere. Quindi abbiamo detto la settimana del 9 si è creata la PIN e successivamente dal 16 si va alla ricerca di delle impostazioni short. Guardate cosa è successo. Questa qui è la settimana della PIN, poi c'è questa settimana qui, guardate qua, questo è il 16 di maggio, guardate, papapapapa, e poi esattamente il 25 di maggio si è creata una FTV, questa è una delle mie strategie per eccellenza, me la sono creata io ormai dieci anni fa, molti di voi anche in realtà la conoscono, eccola qua, Follow the Winner, ho scritto anche un libro, che trovate su Amazon, tra l'altro, FTV, eccolo qua, strategia che, diciamo, è andata a studiare, è andata a riprendere, delle dinamiche di prezzo che sono assolutamente, voglio dire, universali, cioè continuano nel tempo a venirsi a creare, e qui si è creata questa FTV, che è anche una PIN bar, che va a ritestare i livelli di massimo precedente, va a violare i massimi degli ultimi giorni, e crea poi una chiusura negativa, che è in linea con la dinamica, che si era venuta a creare nel weekly, con quella PIN bar, e questa diventa praticamente, una conferma possibile operativa, io sono entrato, poi sto guardando il mio estratto conto, sono entrato a 27,99, quindi sono entrato esattamente qui, 27,99, anzi ve lo faccio vedere da qua, perché sennò sembra che, quindi sono entrato qui, 27,99, guardate, 28, 27,98, questa zona qui, aspettate, questa, più o meno qui, e l'uscita, che sto guardando, ripeto, sul mio estratto conto, è 1,2660, in questo momento ho visto, quindi vado, scusate, ok, e sono uscito a 26,60, quindi più o meno questa zona qui, ne ho preso, qui c'era un livello, c'erano insomma dei livelli da, da tenere monitorati, e sono uscito in target qua, quindi attraverso un, chiaro input, settimanale, che era questa pimbare, poi successivamente, con addirittura la dinamica, short, si è creato poi, nel giornaliero, il classico trigger, quindi con pazienza, si è creato il classico trigger, che mi ha portato a fare un bellissimo trade, tra l'altro, che in giro di tre giorni, è andato a target, tra l'altro, quindi molto molto interessante, questa cosa, ecco, quello che vorrei dirvi, e che soprattutto, può essere interessante, per chi appunto, valuta l'approccio, e la metodologia, che noi utilizziamo, è quello di farsi, proprio questa analisi, se venite nel platino, qualche mese, sicuramente, avrete la possibilità, di capire anche un po', questo tipo di approccio, fine settimana, nel piano operativo, sia chiaro, quello che si vuole andare a, trovare poi, durante la settimana, qualora si voglia andare sul daily, ripeto, quella pin bar, poteva anche essere, trattata sul weekly, ma in questo caso, conferma daily, quindi analisi multi time frame, che ci ha permesso, di avere uno stop migliore, e anche una conferma in più, quindi abbiamo queste due, peculiarità, bene, anche per oggi è tutto, prima di salutarvi, ovviamente, vi chiedo di lasciare un mi piace, se questo video vi è piaciuto, e vi darà supporto nell'operatività, di iscrivervi a questo canale, se non siete iscritti, e di attivare la campanella, che trovate nella home page, del canale di YouTube, perché in quel caso lì, avrete le notifiche, ogni volta che esce un nuovo video, o una nuova live, va bene? Grazie, un saluto a tutti, noi ci vediamo al prossimo video.